Si è svolta domenica 14 giugno presso il giardino del santuario della Basilica dei Santi Medici l'inaugurazione del parco giochi in memoria di Pierluigi Dolciamore e Antonella Carbonara, i due giovani che il 31 marzo del 2019 persero la vita in un fatale incidente stradale sulla strada provinciale 119 che collega le vicine Bitonto e Palo del Colle. Per noi genitori insomma anche se abbiamo realizzato questo parco però dentro di noi c'è sempre dolore e sofferenza, non è facile, siamo contenti di aver fatto una cosa positiva per i bambini, questo sì, perché so che dentro di loro continuano a essere dei bambini che continuano a giocare perché erano due ragazzi che amavano la vita, che amavano giocare, divertirsi. La cerimonia si sarebbe dovuta svolgere il 31 marzo del corrente anno in occasione dell'anniversario della morte, poi rinviata causa Covid-19. Per la realizzazione dello spazio dedicato ai più piccoli sono stati raccolti circa 6.000 euro grazie al supporto di molti commercianti locali. Il sorriso di Pierluigi e Antonella vivrà grazie a quest'opera a loro dedicata. Io non conoscevo personalmente Pierluigi e Antonella ma sento di conoscerli adesso perché abbiamo condiviso e condividiamo con le loro famiglie anche non solo dei momenti di spiritualità, dei momenti anche di riflessione, di confronto perché il dolore, la perdita di un figlio, la cosa più terribile che ci possa essere sulla faccia della terra e che loro abbiano pensato così di poter destinare anche assieme ai parenti, agli amici, un pezzo un po' di questo giardino del santuario per far giocare i bambini più piccoli perché il sorriso di Pierluigi e Antonella non solo non sparisca ma continui a rivivere nei più piccoli e dice anche una testimonianza molto importante per noi adulti di continuare ancora di più anche nel nome di Pierluigi e Antonella ad amare la vita con un occhio di predilezione per i più piccoli che oggi spesso sono i più trascurati.